Ciao ragazzi e ragazze, come non parlare oggi nonostante io non l'abbia visto di Squid Game? Non l'ho ancora visto perché sapete che leggo tanto, guardo un po' meno serie tv, però chiaramente non serve che io l'abbia visto per dire che è una hit, è qualcosa che ha capito e compreso in qualche modo la cultura di un tempo e ha trovato la chiave per interpretarla e creare qualcosa di nuovo, cosa che mi ritrovo spesso a ripetere e che effettivamente anche in questo caso sia rivelata vera con questo fenomeno. Il video di oggi perché una delle cose che si è sentita più dire che è vera riguardo al creatore di Squid Game è che per dieci anni questo tizio ha incassato rifiuti da canali televisivi di tutta la Corea e anche internazionali. A un certo punto tra l'altro ha dovuto vendere il suo computer per 675 dollari più o meno perché doveva riuscire a campare, riuscire a vivere, quindi addirittura ha rinunciato al suo penso principale strumento di lavoro per credere nel suo sogno, nel suo in realtà obiettivo e riuscire a sostenersi nel frattempo. Non si parla mai abbastanza di come la frugalità e anche i sacrifici siano importanti che non sono solo sacrifici mentali per fare un passaggio mentale ma talvolta sono anche sacrifici fisici. La pubblicità migliore per Squid Game probabilmente è proprio questa uno show che dopo dieci anni diventa e probabilmente fosse uscito dieci anni fa sarebbe arrivato prima di Hunger Games per esempio che è una cosa che... o di Black Mirror che sono due cose che mi sento di avvicinare a questa tipologia di format, di idea, di contenuto e sarebbe potuto essere il primo. Avrebbe avuto lo stesso spazio? Non lo so. Non siamo nella fase dei se e dei ma. Però questo ci insegna una cosa. Quando volete cercare di ammassare un seguito, una community in poco tempo o di cercare di vendere un prodotto subito al prezzo che pensate o di raggiungere quel lavoro, quell'obiettivo in poco più del secondo, del minuto, dell'ora o del giorno ecco, forse è utile ricordarsi il caso di questo perfetto sconosciuto che come J.K. Rowling con Harry Potter a un certo punto si è trovato a avere in mano l'oro solo e soltanto perché ha continuato non solo a crederci ma a lavorarci con enorme, enorme pazienza ovviamente con un talento dietro che ha riprovato il fatto che lo show sia uno show di estremo successo esattamente come la serie di Harry Potter. Fatemi sapere cosa ne pensate credo che qua ci siano lezioni molto più importanti al di là del mera quote motivazionale invece davvero c'è una storia da cui si può imparare davvero, davvero molto anche senza aver visto il telefilm Stop whining! Luft dance This Stop whining The